Quando mancano? Un minuto e cinquantacinque secondi! E chi se ne frega! Corriere! Sì! Io non sparo contro un paese inerme, lo faccio prima evacuare e poi farò candare tutti i mortai che le volzano dire. Non dite cresceria! La stazione dipende su sorprezza! Ah sì? Ma io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino. Che conta la vita di cento, duecento persone davanti a Vittoria di Grand Reich? Sono come mosche! E io non ammazzo nemmeno le mosche! E sai cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò! Né ora, né mai! Attate, coloniello! Io ho carta a fianca! E ci si pulisca il culo!